Luca partiamo da Atelier P di che si occupa e poi raccontiamo il progetto del momento che porti a Enquentros. Perfetto Atelier P fondato nel 2010 con il mio socio Mattia Pareschi ci occupiamo di interior design sia residenziale che commerciale. Il progetto che racconti a Enquentros? Progetto che ti racconto quello appena concluso di Isparia. Clinica aperta a Milano in via della Chiusa, nuovi edifici LID, perciò un progetto molto interessante, un aspetto nuovo per noi perché è una clinica di trapianto del capello. 1200 metri quadri, una clinica che non voleva sembrare una clinica ma più dalla reception di un hotel ad arrivare ad un salotto, perciò abbiamo dovuto un po' stravolgere quello che è la concezione classica della sala operativa, della sala di intervento, total white, ma giocare sulle cromie, sul relax, sulla biofilia, su tutta una serie di materiali che hanno voluto utilizzare perché essendo un palazzo LID poi dovevamo anche avere e rispettare certe prerogative, perciò rispettare tutto quello che sono i consumi, sia a livello di illuminazione, sia a livello di aria, sia a livello di consumo dell'acqua. È stato un progetto molto interessante. Che vediamo? Senti, invece a livello di materiali, oggi noi siamo ospiti di Enquentros, quindi il tema è in legno sicuramente, però tante possibilità. In una recente intervista abbiamo parlato di altri materiali, di cemento, di altre situazioni che però sono storicizzate ormai. Invece il legno sta avendo, è come se fossero delle nuove lettere dentro un alfabeto, la W, la Y, nel senso di semilavorato. No, ma vero, ma vero, perché lo vedrai proprio anche in queste immagini che vediamo, diverse interpretazioni a seconda del momento, a seconda del luogo. Abbiamo del legno vero nella reception che gira addirittura anche sul soffitto. Degli altri elementi invece più tecnici che ci servono all'interno delle sale, che chiaramente hanno altri tipi di necessità a livello di pulizia, a livello di durabilità, a livello di utilizzo quotidiano. Perciò tante declinazioni dello stesso materiale che ci permettono però di mantenere la stessa linea estetica, lo stesso fil rouge, le stesse cromie. Senti, tu arrivi dal mondo del design, dell'arredo, quindi hai tanta conoscenza in quel campo lì che ti porti nel nostro nuovo lavoro, ma comunque resta nel mondo degli interni, però è cambiato tantissimo rispetto a quando ci siamo conosciuti tanti anni fa, dal pezzo singolo si è andato... È cambiato tanto, ci si divertiva proprio dall'artigiano in Brianza, a passarci le ore, a tentare di fare un qualcosa di diverso, di differente, di reinterpretare il progetto, a tanti materiali nuovi che si approcciano, adesso ti arrivano direttamente in studio con tante nuove possibilità e tante pelli, tante texture, tanti elementi che sono molto belli da poter sfruttare, che ti danno un'ampia scelta. C'è però il tema, quello dell'invecchiamento, dell'interno architettura, è chiaro che lo showroom di moda ha una vita prevista attorno ai cinque anni, però è il testo che hai raccontato oggi, si pensa e si spera un po' di più, però c'è anche un approccio molto importante, va bene usare le novità, va bene fare gli accostamenti, però probabilmente bisogna anche agire progettualmente in modo un po' più previsionale, etico, progettuale. Assolutamente, questo è un argomento fortissimo in questo momento, perciò quello della sostenibilità, quello del riutilizzo, quello del riciclo, sono tutti elementi che continuiamo a portare avanti, continuiamo a sostenere e soprattutto dove in questo momento la sensibilità di tutti è molto più aperta anche a questi temi. Guarda, c'è un tema, prima avevamo un ospite che raccontava di catene, del food che aveva inaugurato come punti, diciamo vendita in realtà del cibo, quindi ristorazione, diceva che sono entrato in questi posti e mi sono reso conto di alcuni errori progettuali, cioè alcune pareti, doppie pareti, alcuni materiali che dal non utilizzo e comunque dalla dismissione hanno fatto rendere conto che ci sono appunto degli errori in questo senso, del ciclo di vita del prodotto, della dismissione, della flessibilità di uno spazio che forse deve essere progettato anche in previsione di un cambio veloce di utilizzo. Certo, soprattutto in una città come la nostra, dove i locali ancora meno durano di quello che hai detto tu, perché quello è possibile di moda, ma un locale ha una vivibilità di tre anni e dopo tre anni devi riuscire a reinterpretarlo, o un rinnovo completo, o una parte di rinnovo, però concordo con te che dobbiamo pensare anche di come poter riutilizzare queste cose, di come non dover fare sempre e per forza interventi troppo invasivi. Senti, la parola chiave del vostro lavoro in questi anni? Perché in questi anni, nell'ultimo periodo, è proprio questo della sostenibilità in cui stiamo lavorando tanto, sia per l'utilizzo di materiali, perché alcune compagnie vogliono avere il B Corp, perciò anche all'interno di quello devi poter avere e giustificare i materiali che utilizzi. Altre marchi dell'abbigliamento con cui ci siamo approcciati, abbiamo fatto un bellissimo progetto su un materiale proprio di abbigliamento nuovo, completamente sostenibile, che interpreta anche il riutilizzo dopo la vita del prodotto. In tutto questo ci siamo resi conto di dover cambiare e avere un'apertura verso un'altra gamma di materiali, che anche per noi abbiamo potuto studiare come utilizzarli. E questo però ha trovato che sia stata una nuova vita molto interessante anche a livello progettuale. Per chiudere, solo Italia, il vostro ambito, anche estero? No, anche estero, anche estero, anche in Francia, in Spagna, stiamo lavorando un po' in giro. Che viva! Sempre!